Il caldo e il sole cominciano ad essere i protagonisti delle giornate, l'estate ormai alle porte e dunque dal 1 al 15 giugno viene avviata la campagna della Lilt di prevenzione dei tumori cutanei con lo slogan arriva l'estate uniti per la pelle. La nuova campagna come ogni anno la Lilt è sempre molto attenta sui temi della prevenzione, soprattutto della prevenzione del melanoma. Tra l'altro il melanoma è una di quelle malattie tumorali che ci permette di avere un alto grado di guaribilità se noi lo diagnostichiamo in tempo utile. Ci si deve allarmare quando il neo comincia a trasformarsi. Si parla dunque di prevenzione del melanoma ma anche di corrette esposizioni ai raggi solari. Per tale ragione verrà distribuito anche del materiale informativo in tal senso durante le visite in cui verrà effettuata una dermatoscopia digitale. Ci permette di fare una diagnosi molto più precisa e di individuare quei nei dubbi che poi vanno indirizzati ad una escissione e quindi ad una valutazione istologica. Oltre a questo vogliamo fare un'educazione alla prevenzione e soprattutto regolamentando l'esposizione al sole perché questo è importantissimo evitando le ore più calde e utilizzando tutti quegli accorgimenti perché non ci sia una sovraesposizione ai raggi solari e quindi una protezione con le creme idonee per salvaguardare, per non stimolare i nei a trasformarsi in delle situazioni maligne. Grazie